Alessandro Passaponti, assistente allenatore della Emma Villa Siena, a Pasquetta si torna a giocare gara 2, questa volta a Brescia dopo una buona prestazione della squadra senese in gara 1 e una bella vittoria. Brescia è una squadra esperta, ha tanta qualità nei suoi attaccanti e non solo, cosa vuole dire il coach Passaponti? Beh, sicuramente sarà un'altra battaglia, abbiamo dimostrato in gara 1 di essere pronti per questi playoff, ce li siamo guadagnati, tutto l'anno si sono impegnati moltissimi ragazzi, hanno lavorato duramente in palestra durante le settimane, e quindi ora è il momento anche di viverlo in maniera serena, consapevoli che hanno una forza interiore e che dimostrano poi sul parquet quando giochiamo con squadre che sicuramente daranno filo da torcere perché i playoff non sono una passeggiata sicuramente. Ecco, riguardando gara 1, nel terzo e nel quarto sette è venuta poi la migliore Emma Villa, se no come qualità dell'attacco, tocchi a muro, difese, cosa si può dire da questo punto di vista? Sì, effettivamente abbiamo messo in mostra delle buone doti che abbiamo, che sappiamo di avere, quindi cresce la consapevolezza di essere un buon collettivo, una buona squadra, non sarà una passeggiata, non sarà una partita facile sicuramente perché Brescia è un buon roster, come hai detto benissimo, sono giocatori di qualità, hanno tutti i reparti coperti, Club Hike, l'opposto, i centrali, i candeli, insomma non sto a fare i nomi di tutti perché è inutile, sono effettivamente una buona squadra, altrimenti non sarebbero dove sono attualmente. Ecco, sono gare ormai da dentro fuori, Brescia deve assolutamente vincere per proseguire, prolungare la serie e portarla a gara 3, mentre si è una sogna già di staccare il biglietto per arrivare in semifinale. Partire da dentro fuori, cosa conta maggiormente in questi match? Ma secondo me conta la tranquillità, voglio dire la spensieratezza, nel senso di viverla in maniera serena, senza pressioni, non abbiamo niente da perdere, sappiamo che abbiamo ancora una freccia al nostro arco nel caso non dovesse andare bene lunedì, ma ci proveremo sicuramente perché la squadra ha dimostrato di stare bene, di avere voglia, fame, di voler ancora ottenere risultati importanti e quindi andiamo là con tutte le carte in regola per fare la nostra partita, poi vedremo come andrà a finire. Cosa è piaciuto maggiormente a coach Passaponti nella prestazione dei ragazzi in gara 1? Devo dire che mi piace sempre la reazione che emettono dopo che ci fanno avere un po' di batticuore, magari con qualche rilassamento che però succede sempre durante le partite di pallavolo, comunque spesso quando ti accorgi di stare bene, di giocare bene, è inevitabile un attimo di appannamento, inevitabilmente viene fuori la qualità dell'avversario che comunque c'è, non lo dimentichiamo. e quindi ho visto la voglia, la grinta, l'unione del gruppo, il collettivo, ecco mi è piaciuto la squadra perché tutti i componenti hanno lottato, hanno lavorato uno a fianco dell'altro e quindi questo fa ben sperare insomma per il futuro.